Il mondo è un tipo irrazionale Per Luciano siamo vecchi amici, per lui sono semplicemente Osvaldo Tornate fuori in cucina, ci penso io qui Che cosa avete in comune con quella gente? L'Alfredo ne hanno chiuso il negozio, non voglio sentire più una mosca Non c'è nessun futuro possibile, quelle persone oggi vi applaudono, lo fanno per paura Eravate tutti lì quel giorno Vi ricordate i punti del programma? Si parlava di voto alle donne e non solo avrebbero potuto votare, ma anche essere elette Non sapevate che sarebbe venuto? Ma che succede? Non ha perquisizione E quando siete arrivati non riesco a immaginare questo posto senza di voi Devi nascondersi, tu sei l'unico che ci può aiutare Di sobbettire ad una legge sbagliata a volte ragazzo mio è un obbligo Questo lo conosci? Mai visto? E poi signorina Costanzi, sono sicuro che a voi non sfugge nulla, venite qui Che teme di invecchiare Mi ci devi portare al mare Io metterei un vestito rosso e magari Tu mi diresti che il vestito è troppo corto e che il rosso non ti piace Il rosso è troppo vistoso